Buongiorno e ben ritrovati da LelioMinaia.com nel nostro consueto spazio di presentazione dei prodotti Hi-Fi. Oggi vorrei presentare questo amplificatore integrato vintage del costruttore giapponese Luxman e precisamente il Luxman L80. Questo amplificatore si colloca come anno di costruzione nel 1978. E' un amplificatore integrato stereo da 50 più 50 Watt su 8 Ohm. Andiamo a vederlo da più vicino. Controllo dei toni. Controllo dei bassi separati per ogni canale, right e left. Qui abbiamo praticamente un filtro subsonico e praticamente un selettore per tagliare gli acuti. Quindi un cut-in, quindi a 7 KHz e 12 KHz. Monopolo del volume. Bilancia. Selettore degli speakers. Poi qui abbiamo praticamente controllo dell'UNNES. Sistema per duplicare da registratore 1 a registratore 2. Monitor 1, monitor 2 dei desk, dei registratori a cassette. Poi qui abbiamo anche un selettore per fare stereofonia, mono e reverse, cioè per invertire il canale destro e il canale sinistro. Uscita della cuffia da 6,3 mm. Interruttore generale acceso spento. Selettore degli ingressi. Ausiliario, tuner, fono, fono 2, ausiliario 2. Vediamo un attimo anche sopra. Questo amplificatore è dentro contenuto in questa scatola di legno. Infatti per poterlo smontare bisogna proprio sfilarlo fuori. Cioè dal frontale qui davanti si porta fuori e si sfila da questa scatola. Andiamo a vederlo anche un attimo di dietro. Dietro si presenta così. Lo guardiamo da più vicino. Praticamente gli ingressi. Ausiliario, tuner, tape 1, tape 2, ausiliario 2. Poi qui abbiamo praticamente un connettore DIN per il registratore. Poi abbiamo il ground, sempre per il geladischi. Qua sotto praticamente degli ingressi RCA per il registratore 1 e il registratore 2. Aletti di raffreddamento dei finiali di potenza all'interno. E morsetti di tipo clip per i diffusori. Copia A e copia B. Lo vedete un po' sporco così ma non è che sia sporco. È proprio anche l'età che ha. Ricordiamo che nel 1978 qualche annetto ce l'ha. Lo vediamo anche un attimo acceso. A e copia B. Grazie per la visione! Grazie e arrivederci ai prossimi video! Grazie dall'ElioMinaia.com, Borgomaneri in provincia di Novara. Grazie!